Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono sempre il rosa giurassi 410 e oggi siamo qua in questo video in realtà non so come chiamarlo semplicemente un video speciale perché come potete vedere infatti da questo video se no lo facciamo a fare questo video cioè dici boh abbiamo appunto raggiunto un anno di video su youtube e boh è qualcosa che non mi sarei mai aspettato di fare cioè rimanere un anno su youtube boh cioè no perché e in realtà cioè mi dispiace che proprio cioè proprio nel momento in cui abbiamo raggiunto un anno su youtube mi tocca cioè mi tocca fare meno video come appunto perché i problemi dell'altra volta che avevo fatto nell'altro vlog ci sono ancora anzi forse diventeranno di più e magari porterò soltanto uno o due video a settimana purtroppo è una cosa bruttissima e come potete vedere sempre il problema è di tempo ovviamente perché in questo momento il tempo non esiste infatti questo video lo sto facendo molto di fretta purtroppo perché avrei voluto fare un montaggio fio con tutte cose belle però purtroppo non ci sono riuscito perché sono una persona che prepara le cose in tempo sì lo sapete ormai e niente quindi semplicemente c'è questo video infatti non c'è neanche la facecam perché appunto purtroppo è così mi dispiace comunque volevo semplicemente ringraziare tutto quello che fate sempre per me cioè chi lascia nei commenti cioè chi scrive chi scrive chi mi aiuta nei commenti diciamo magari qualcosa che non so me lo scrivete lasciate mi piace commentate così in modo molto carino soprattutto tutti i miei iscritti perché anche se sono solo 500 è comunque qualcosa qualcuno mi segue non avrei mai pensato che qualcuno mi seguisse e invece è successo in questo anno sono successe tante cose tante cose e quindi niente per questo in realtà video cortissimo perché già così spero che comunque vi sia piaciuto in caso lasciate un mi piace commentate non so con che cosa in realtà fate senza commentare tanto non serve però magari lasciate un mi piace per far vedere che ci siete sempre e quindi niente noi ci vediamo al prossimo video che sarà la sky factory non so quando perché non so se avrò tempo di registrarla comunque ok la vedremo la vedremo noi ci vediamo al prossimo video quindi ciao a tutti